Abbiamo deciso di presentare il libro di Giancarlo Libert dedicato ai cunesi che emigrarono nella Pampa perché anche la città di Bra, come tutte le altre città della provincia grande, ha dato un contributo significativo all'emigrazione di questo territorio, di questa provincia, di questa regione, al di là dell'Atlantico. C'è parso giusto ricordare la memoria di quei nostri concittadini che fecero una scelta di emigrazione, talvolta stagionale, talvolta invece definitiva, decidendo di legare il loro destino, la loro vita, la loro famiglia, la loro fortuna ad un altro paese. Talvolta la ricerca fu fruttuosa, altre volte lo fu meno, talvolta fu caratterizzata anche dal dramma. Voglio ricordare una vicenda singolare all'interno di un grande, grande dramma che fu quello del Sirio. La nave Sirio, una delle più note navi per il trasporto di emigranti da Genova al Sud America, che fece naufragio nell'agosto del 1906. In quel naufragio nell'agosto 1906 perì anche un braidese che aveva avuto una vicenda singolare. Lui era immigrato per far fortuna dall'altra parte del mondo, aveva fatto una discreta fortuna, era tornato qui per sposare la compagna che aveva dovuto lasciare quando aveva compiuto quella scelta di andare a far fortuna in America. Ritornò qui, sposò la compagna, dopo 15 giorni dal matrimonio, dopo aver preso congedo dagli amici e dai parenti, si imbarcò sul Sirio con la sua compagna. Purtroppo su quel viaggio tragico, e in quel viaggio tragico lui perì, la sua compagna tornò qui e lui invece perì nelle acque antistanti la costa spagnola. Quindi anche ricordando il sacrificio di questo concittadino ci è parso giusto ricordare l'epopea dell'emigrazione cuneese in terra argentina. Stasera presentiamo qui nelle sale comunali del Comune di Bra il libro Cunesi nella Pampa. Il volume è uscito qualche mese fa e illustra la storia dell'emigrazione piemontese in Argentina. Fa seguito ad altri precedenti, uno dedicato alla provincia di Asti, che si chiama Astigiani nella Pampa, e uno dedicato all'emigrazione piemontese in tutto il mondo. Personaggi importanti citati nel volume ce ne sarebbero moltissimi. Io vorrei citarne uno in particolare perché è una cosa molto particolare e molto specifica. Partendo da poche righe, tre o quattro righe, trovate su un libro pubblicato dalla Dante Lighieri di Buenos Aires diversi anni fa, abbiamo recuperato, mano a mano che andavamo avanti nel lavoro, una biografia, che è quella del medico Trucco. Il medico Trucco è andato, è un medico originario di Montà, ha esercitato a Pralormo e a Poirino alla fine dell'Ottocento, è andato in Argentina, è arrivata alla colonia Speranza, che è la prima colonia agricola fondata a metà dell'Ottocento, 1856. Lì ha sposato la figlia di uno dei più importanti colonizzatori di origine svizzera, ha avuto cinque figlie, si è trasferito poi a Santa Fe, che è la capitale della provincia, dove è stato per più di trent'anni il direttore dell'ospedale di Santa Fe e Colonia. È stato anche vice console d'Italia per diversi anni. Grazie a tutti.